Ciao ragazzi! Allora, quanti di voi sono mai stati in un ristorante tradizionale moldavo a cucinare con le sue proprie mani? Oggi abbiamo una sorpresa grandissima per i nostri pazienti perché stiamo per cucinare una placinta tradizionale moldava e stiamo per assaggiare i nostri gusti. Quindi in questo video oggi avrete delle emozioni e un'atmosfera bellissima! Raccontaci un po' cosa fai! Sto cercando, mi sforzo, di fare una placinta. Speriamo che sia buona, che sia all'altezza. Non me ne vogliate, però è veramente la prima volta. Cosa fai? Io sto facendo la placinta. Con cosa la fai te? Allora, la preparo con la verza e la carota. Se vi piace ovviamente fare la placinta, poi vi diamo la ricetta, l'ho fatta anche a casa e sul gruppo, su questo video, ci mandate la foto con la vostra placinta. Questi qua li portiamo nel forno e quelli che venite in Moldavia e volete, vi possiamo portare qui a fare un masterclass, a fare le placinte, un nostro cibo tradizionale moldavo. Ragazzi, quanti di voi sono mai stati in una cantina tradizionale moldava? Guardate quante bontà! Abbiamo un succo tradizionale fatto in casa, abbiamo i pomodori acidi, diciamo, le zucchine, di tutto e di più. E' proprio qua che siamo venuti oggi con i nostri pazienti ad assaggiare i sapori moldavi, i sapori locali. Siamo a 55 chilometri da Chisinau e questa serata sicuramente sarà la grande. Quindi questa esperienza sarà veramente speciale sia per noi che li abbiamo portati qui, ma sia per loro che andranno a casa con grandi emozioni. Andiamo! Pofte buone! Oggi, oltre le placinte che abbiamo cucinato con le proprie mani, stiamo anche gustando i sapori moldavi. Diciamo un po' come vi sembra. Ti piacciono i sapori? No, la pagnotta ancora non l'ho assaggiata, però ho assaggiato il riso, la carne ancora non, il formaggio, la verza buonissima. Per adesso è tutto buono. Quindi ragazzi noi proseguiamo al tavolo tradizionale moldavo e invitiamo anche quelli che ci guardano. Per me è stata meravigliosa, lo ripeto, meravigliosa. Insomma, sono attratta prima di tutto dalla vostra organizzazione. Allora, oggi è stata un'esperienza molto bella perché mi ha riportato un po' indietro nel tempo. Quindi mi ha ricordato quando andavo da mia nonna, che era un ragazzino, e che mangiavo tutte queste cose che mi cucinava lei. Comunque è stata una bella esperienza cucinare insieme e fare amicizie anche con i pazienti della clinica e con le accompagnatrici, molto brave e simpatiche. Quindi vi ringrazio e se organizzerete altri eventi io sicuramente ci sarò.